valio terme 20 luglio 1985 prima festa cremisi ci troviamo a valio terme in attesa che convengano qui sul sagrato della chiesa per la loro prima festa cremisi numerosi bersaglieri questo primo ritrovo bersaglieresco nel nostro paese è stato organizzato dall'associazione nazionale bersaglieri sezione di gavarlo il programma della manifestazione è così articolato ore 19 ammassamento e spilata dei bersaglieri per la centrale via roma ore 19 e 30 lancio di volantini dall'aereo pilotato dal signor ferreni alberto di vestone seguito dal saluto delle autorità con consegna di targhe a benemeriti bersaglieri ore 20 e 30 concerto della fanfara del garda e valle sabbia presso le ponti termali di valia vediamo in questo istante spuntare in perfetto ordine di parata i fanti piumati in testa i rappresentanti di valio terme seguiti dalle belle e simpatiche mascotte dalla caratteristica fanfara e dalla belle e simpatiche delle altre sezioni del garda e valle sabbia grazie a tutti 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 il corteo si è fermato ed i fanti piumati accompagnati dalle squillanti note della fanfara mentre la bandiera viene innalzata rendono ora omaggio ai caduti deponendo al monumento il segno di costante e riconoscente ricordo un cestino di fiori grazie 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 Dopo questa breve cerimonia patriottica il corteo si ricompone per raggiungere, percorrendo la via principale, via Roma, il piazzale della sede comunale. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.